Voglio interpellare invece lo scienziato, l'unico che può dire qualche cosa di, diciamo, sensato e credibile sul fronte sanitario, sul fronte medico, professor Guerra. Prima si chiedeva, in modo retorico Scanzi, siamo liberi e pronti a fare cosa? Siamo liberi e pronti a fare che cosa? Ma liberi, siamo sempre stati liberi. Mi permetta di dire che in assenza di una terapia, in assenza di un vaccino, l'isolamento equivale ad una prescrizione medica. Quindi è una procedura salvavita, se vogliamo. Questo vuol dire che adesso, con la modellistica che abbiamo proposto al governo, quindi al decisore politico, il decisore politico ha deciso a sua volta, appunto, di intraprendere una certa strada, prendendo in considerazione tutte le variabili che abbiamo presentato. Quindi non si tratta di un asservimento del governo a un comitato di scienziati mati, perché questo proprio no. Noi abbiamo semplicemente elaborato una situazione sulla base di dati reali, l'abbiamo modellata, abbiamo chiesto confronto tecnico con altri colleghi in altri paesi, quindi abbiamo proposto un qualche cosa che è una stima molto vicina al reale di quello che è accaduto e di quello che potrà accadere. Abbiamo proposto una serie di ipotesi di apertura e di chiusura modulata, in modo tale di far capire, non soltanto al governo, ma anche alla gente, che comportandosi in un certo modo, portando ancora un po' di pazienza, non si butta via tutto il sacrificio fatto finora, perché veramente, io trovo sconcertante quello che è stato detto. Mi permetta anche il paradosso, se fossimo stati in una dittatura, in uno stato non di diritto, paradossalmente appunto sarebbe stato molto più facile, perché avremmo mandato l'esercito nelle strade, avremmo chiuso in casa tutti quanti e ce la saremmo cavata probabilmente un po' più. Come è successo in Cina, per esempio.